E' una Fidelisandria 10 e lode, 10 come i risultati utili consecutivi totalizzati dal gruppo di Alessandro Potenza che sta facendo della continuità la pietra miliare di un cammino sin qui superiore alle aspettative. Tra i segreti del sesto posto dei Biancoazzurri, oggi a meno uno dalla zona playoff, c'è una difesa granitica. Appena 8 centri al passivo, meno di tutti nel girone H, di cui tre incassati nel filotto di 10 incontri senza sconfitte. Domenica, nell'1-1 di Fasano, è tornato titolare dopo due mesi tra i pali, pari di Addario che promuove il punto ottenuto contro il gruppo di Mister La Terza. E' stato un punto guadagnato. E' vero che c'è il rammarico di essere stati raggiunti a un quarto d'ora dalla fine, però prendiamo tutto quello che c'è di positivo anche perché non era facile e abbiamo affrontato un'ottima squadra. Il 3-5-2 di Potenza sta dando i frutti sperati. Dal momento del cambio di modulo, la Fidelis Andri ha messo il lucchetto alla propria porta. Un dato ancor più evidente se si guarda il rendimento interno. Al Dei Ulivi, solo il Nardò ha colpito la Fidelis nell'1-1 del secondo turno di campionato. Ercolanese, Picerno, Pomigliano, Bitonto e Gragnano, gli altri club che hanno fatto visita a Cipollette e compagni, sono tornati a casa senza rete all'attivo e con un punto in tasca solo nel caso del team Bitontino. Un dato spiega a Dario, frutto del lavoro di squadra. Il segreto è il lavoro. Il lavoro durante la settimana, i sacrifici che si fanno e poi ognuno ci mette del suo. Mentre dal mercato si attendono un attaccante e un centrocampista over, hanno salutato la truppa di Potenza, Colella, passato al Molfetta Calcio, Pirolo e Pagone, ceduti al Terlizzi e Bilotta rientrato dal prestito a Cosenza. All'orizzonte di qui a fine 2018 ci sono Nola, Sarnese e Altamura in casa con nel mezzo la trasferta di Gravina. Un calendario sulla carta favorevole, a Dario però vola basso ma consapevole del fatto che dicembre può essere il mese della verità. Siamo a quota 21 e dobbiamo fare più punti possibili per raggiungere almeno quota 40 che ci permette di essere salvi e poi dopo quello che verrà lo prenderemo di guadagnato.